Noi due anni che siamo partiti col valorizzare questo progetto che si chiama Fano Outdoor che ha creato una serie di percorsi che il biker, la persona che vuole camminare a piedi, può fare nel nostro territorio. Fano è tutta la vallata del Metauro del Cesano. Oggi Fano collabora insieme a noi Marche Bike Life proprio per far sì che questi percorsi entrino in un contesto regionale. Quindi da domani Fano entrerà a far parte di una promozione nazionale ed internazionale, promuoverà le Marche, un vasto territorio adatto per il bike e Fano entrerà a far parte proprio di un itinerario, di una serie di percorsi che ci valorizzeranno e valorizzerà ovviamente il turismo in periodi dell'anno necessari per farlo crescere. Questo è un progetto cicloturistico realizzato praticamente su quasi tutto il territorio della regione Marche con l'avvento di Fano, quindi siamo riusciti a coprire tutte le cinque province della regione Marche ed è un progetto dove noi abbiamo messo in rete attraverso degli itinerari cicloturistici, itinerari comunque di ciclabili, di ciclovie, abbiamo messo insieme la bellezza di 29 comuni appartenenti appunto al territorio marchigiano. L'obiettivo è quello di portare sempre più comunque dei flussi turistici provenienti comunque da fuori regione, quindi flussi turistici nazionali e internazionali a condividere il nostro territorio attraverso la bicicletta, questo movimento lento che ti può far scoprire quelle che sono le bellezze artistiche, culturali, enogastronomiche, storiche e le tradizioni di una regione come la nostra, le Marche.